E' sempre in testa, non è profondi perché non si tratta più da me, si tratta più di me, ma adesso è preso me a... Hoppast Box! Signore e signori, la gara che è dedicata a... il compasso della testa di Roltaotti e cominciamo a salutare il mazzurro, campionato di gara del lente 2015 Stefano Suttile! Allora, il primo piano è la seconda di un'altra di massa, Donald Thomas! Alvito delibolica, lo scorso su anno, quanto da l'infermedio, un'unità in anno, con gli uomini, Erick Lourdes e Cor! Il primo piano di Stai Lourdes, il suo reccove, lo scuola, Mario Zaglia! La vera prima pista di finisera, l'usato 243, Luka Keshe. Amico dell'Europa e dell'automunza di governo, dalla percorrusha da Valorash, Massim, Brindalecao. Non ha bisogno di presentazioni, il prima pista dell'anno, Giovanni, Cipo Campani. Di? Paladro, calma! Salto iалиi del rokario del dictatissimo el IV. um... ando volna il numero... il canale questa bacia in in campione europeo 4-4-4-4 in campione 1-3-2 campione nazionale Svizzero, Ricky Petrucciani. 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 Grazie. c'è Siamo arrivati a Vincenzo di 44 settimane da sotto, il secondo è il Tavere. Grazie a Vincenzo Sampano, il gol di mele da Francesco Tocchiano. Un grande secondo posto di Tavere. Adesso prendiamo i tempi. Guardate che ci sentiamo a mano, un po' alto, 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 un po' alto. Guardate il 466! 45 e 93 per Matthew Watson Smith. Andiamo in tempi di Edward Schott e di Vladimir Kacini. Vincenzo Sampano, adesso Don Spursch. Ascensione da Di Moloch. Guardate che adesso in testa Marco Poglino, un po' alto, 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 un po' alto. la città almeno Grazie a tutti. 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 Andiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. Si sale a 2.30, next bar 2.30. Ancora ostacoli, i protagonisti dei 110, in Leina 1 rappresenta Valventus, Sceglia Prampoieta. In consiglia 2, la maniata di fronto degli ultimi campionati europei, Indorna, per l'Italia, Paolo Mamonil. In Leina 2, World Day Indorna Champion, are representing a great leader, Andrew Potti. In Leina 2, Olympic champion in Rio, Dominga Omar McLeod. In Leina 5, Olympic champion in Rio, Dominga Omar McLeod. L'Unione di San Nicolas. La Lugano di San Juan. Il Fulano di San Juan. L'Unione di San Juan. In Fulano di San Juan. In Fulano di San Juan. il campione italiano in carica Loretto Lotto Pedini la vista di Ampichino ardeş Aplausos 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 l'appoggio della Alba Rossiana, la droga Perini, e McLeod in testa, McLeod che si aggistende da McLeod e che va a vincere il 13 e il 9, anche allora McLeod e più buona vita, allora McLeod ci venga! bambino il primo ultimo quadro di Chet, perché McLeod resistiva dal 1999, adesso sono 31 e 22 per il padre! La domanda è una domanda che è il primo quadro di Dio Mare, e il primo quadro di Dio Mare, la domanda è il primo quadro di Dio Mare e il primo quadro di Dio Mare, di lui Mare! grazie vengono a 13 e 32 andiamo alle presentazioni anche dei due turi Perini e Dalla Molina 13 e 46 per Brantoli Perini 13 e 63 stagionale per Lava Perini e a un centesimo Papa Molina 13 e 64 Stagionale Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 il gruppo di TESA il gruppo di TESA ha completato il suo procedimento con un canadese con un canadese e non sono distante il calcio e il palio non vuole la manica il ritardo il ritardo non è assolutamente facile davanti c'è sempre per il partito di TESA poi con il 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 perché il 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 Stato a posto da un'altra cosa, ci siete che devi, inizio, 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 inizio. Che sono tutti. Grazie a tutti.